Nella puntata precedente di A Tutto Reality, il tour. Perché? Che è cesso? Cominciamo dall'inizio. Alberta, mostrato delle foto compromettenti a Sierra, che in preda a un attacco d'ira, si è rivoltata contro Aedra e... Boom! Exa! Ma fortunatamente per la ragazza, Alejandro si è ricordato di avere un culo e l'ha salvata. Questo ed altro su A Tutto, reality! Il porno! Per il mio provino farò vedere come il mio vecchio mi ha insegnato a cacciare i topi dalla Cina. Signor sindaco, dirò solamente che in Cina tempo fa c'era una città piena fino a qua di neri. Pipistrelli Tutti, tutti li ho portati via. State calmi, state calmi, postati amare, sto... No, no! Devi morire te, merda! Ehm... Devo fare pipì. Bei pantaloni! Questa è SPARTA! Ragazzi, che ne pensate di cantare un'altra canzone? Someone kill DJ Kill the fucking DJ Someone kill DJ Kill the fucking DJ Kill the fucking DJ Suona il corno da battaglia spartano! Ddo Ddo Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Quello è un helicotter! Occhialini a raggi X! Di che colore sono le tue mutande?